Non c'è dubbio che siamo a Roma, a parte il Colosseo. Come avete sentito, l'autista mi ha preso per una straniera. E non certo perché mia nonna era inglese. No, la ragione è un'altra. È che questa 1500 Fiat ha targa estera perché viene dalla Scandinavia. Mica da sola logicamente, con me al volante. Ora vi racconto tutto. Siamo a Stoccolma dove Gisella Sofio, cioè io, ha appena terminato di girare un film. Mi sono detta se torno a Roma in aereo arrivo troppo presto. In treno non vedo nulla. E allora? Resto a Stoccolma? Eh no, torno in automobile. Una telefonata alla FIA ed ecco qui la cerimonia della consegna della 1500. Questo signore incaricato di consegnarmi l'automobile apre il cofano per dimostrarmi che si tratta dell'ultimo tipo. Vedremo, vedremo durante il viaggio se veramente questo tipo, questo bel tipo è perfetto come si dice. Arrivederci. Il viaggio, la mia lunga passeggiata europea attraverso quasi 3000 km ha inizio. Ciao Stoccolma! Ciao Stoccolmini! Settecento chilometri separano Stoccolma da Malmo. Un po' di curve, niente autostrada. In compenso un sacco di laghi, laghetti. Perché sapete, la Svezia non è mica tutta intera come l'Italia. Ma chi? È tutta a pezzettini. E così, di isolotto e isolotto, si arriva a Malmo, al traghetto. Al di là c'è, indovinate, Copenaghen, la splendida Copenaghen. È una città allegra, vivace, che di nordico ha solamente il clima. Però è che in linea la mia 1500, come spicca fra tutte le altre automobili. Portiamola a respirare un po' di aria di casa, alla Fiat di Copenaghen. Questo angolo non sembra un pezzetto d'Italia? Infatti ha le filiali Fiat all'estero e come trovarsi in Italia? Certo, il portiere non ha l'accento torenese né quello dell'autista romano. Tac, vuol dire grazie in danese. Beh sì, modestamente so molte lingue io. Un altro tac ve lo dice il collaudatore quando gli consegnate il foglietto ed inizia subito le prime operazioni di controllo. Un controllino così, tanto per pignoleria. Però, fatto sul serio, mica si scherza con i danesi della Fiat. Dunque si comincia con il livello dell'olio. Perfetto, congratulazioni signora 1500. Lei non consuma olio. E come andiamo con l'acqua? Non ne ha bevuto neanche una goccia. È proprio a spemia d'acqua. E questi turacciolini che c'è dentro quelle bottigliette? Ah, l'olio dei freni. A livello giusto? Bene, bene. Questo lo so cos'è. La batteria, con la sua bella acqua distillata a posto. Una piccola regolatina al carburatore. Che pignoli sti danesi. E il controllo Fiat si conclude. Ma prima di riprendermi il viaggio, devo fare un'altra visitina. Eh sì, una tappa d'obbligo in questa città. Bisogna passare una serata al famoso Tivoli di Copenhagen. Nel parco dei divertimenti fra i più famosi d'Europa. Dove veramente c'è di tutto. Dove per un po' si ritorna bambini. Dove per un po' si ritorna bambini. Ma in fondo anche pilotare la 1500 è un divertimento. Fila via che è una bellezza. Stai seduta come un poltrona e ti godi veramente il viaggio. Ah, di questo ponte vi devo parlare. È il più lungo d'Europa, sull'autostrada pattezzata a volo d'uccello che parte dalla Danimarca e traversa la Germania. In poche ore siete ad Hamburgo. La cosa che più colpisce in Germania sono i cartelli pieni di Akton, Vammoten, punti esclamative. Hai capito? Stete te schifo. Scherzi a parte, il porto di Hamburgo è enorme. Ha 52 bacini, 250 chilometri di banchine, un traffico di navi che... Scusate un attimo, se no mi scappa sto battello. Hamburgo in quest'ultimo secolo ha cambiato spesso fisionomia. Prima un incendio colossale ha incenerito parte della città, poi un piano regolatore l'ha trasformata ed infine i bombardamenti dell'ultima guerra l'hanno semidistrutta. Questo il palazzo del comune però si è salvato. Ora puntiamo su Francoforte. Non è lontana. Si continua sull'autostrada a volo d'uccello come è stata pattezzata e sulla quale veramente si vola a filo di gas ha oltre 150 all'ora. Odu, siamo nella valle del Meno. È veramente una valle ridente come dicono. E sapete perché? Perché è circondata tutta intorno dai monti che la riparano dai venti freddi del nord. Infatti qui c'è sempre un clima mite e piove quel tanto che basta per rinverdire la vegetazione. Eccoci dunque a Francoforte. Ma non voglio distrarmi perché a questo punto il contachilometri mi guarda severamente. Se potesse parlare mi direbbe Gisella, ricordati che tempo di fare il primo tagliando ed infatti la 1500 sembra che imbocchi da sola la via della filiale Fiat come un puro sangue che al piccolo trotto raggiunge la mangiatoia. Qui, alla filiale di Francoforte c'è chi avrà cura di lei. Il collaudatore la prende in consegna. La conduce sul ponte dove la colgono i meccanici pronti ad iniziare il lavoro. Vede la verità. Chi direbbe che non siamo in una nostra filiale Fiat? Viaggiando all'estero fa piacere trovare un cantuccio d'Italia. Il tagliando ha inizio. C'è chi smonta il carburatore mentre uno specialista smonta i fari. Eh, dico, non pretenderete mica che io vi spieghi come avviene il controllo del carburatore o cosa sia la centratura dei fari e tantomeno quello che il meccanico fa attorno alla testata. Io so soltanto che il tagliando è un'operazione molto scrupolosa perché l'ho visto fare. Ho visto, per esempio, stringere tanti bulloni sotto la pancia della 1500 e mi è venuta in mente la sarta che fa le ultime rifiniture ad un bel labito da pomeriggio elegante. Insomma, dopo tante operazioni complicate un piccolo controllo ai freni e poi la prova finale del collaudatore prima della consegna. Tutto questo e naturalmente molto di più accadeva alla Fiat mentre io girovagavo per Francoforte in attesa di riprendere il viaggio. È buona norma del turista anche frettoloso raggiungere le città in automobile ma poi girarle a piedi comprare un giornale per avere un'idea della vita notturna ed infine la cosa più divertente almeno per le signore. Gironzolare fermandosi a tutte le vetrine e per far questo bisogna essere sole perché gli uomini sapete sono noiosi, vero? Dunque dicevo le vetrine ce n'è di belle a Francoforte ma ciò che colpisce di più sono le pose dei manichini guardate questi ma come stanno tutti così tutti contorti una pose naturale, vero? Pensate se una donna stesse così come loro ma purtroppo non ho tempo di vedere altre vetrine ed altri manichini un'occhiata alle fontane della piazza della stazione e poi appena cala la sera filo in albergo domattina devo alzarmi di buon'ora alle prime luci dell'alba riprendo il viaggio ormai la Svizzera è vicina ed io punto direttamente su Ginevra passando da Basilea siamo nel cuore della Svizzera di lingua francese oui monsieur d'un nous sommes à Genève attorno a questo lago si raccoglie la zona moderna di Ginevra lo schizzo che si innalza di parecchi metri vi dà il benvenuto e bagna come pulcini tutti i turisti che come me si fanno sotto per fotografarlo meglio e soprattutto più asciutto puntare l'obiettivo della cia presa sulla magnifica palizzata che circonda il lago e che vi dà un'idea sia pure approssimativa di questa incantevole città dove il sole è tiepido ma riscalda anche d'inverno questo grande specchio d'acqua ti fa invidiare i cigni che motoscafi permettendo si sentono i veri padroni del lago qui vivono beatamente mettono su famiglia e si tramandano il loro candore di generazione in generazione la Ginevra antica è sulla collina purtroppo non ho tempo di visitarla ed allora non mi resta che portare con me il ricordo di qualche cartolina nel resto le cartoline raffigurano i punti più belli di ogni città non dico che tutti i turisti debbano comportarsi come me cioè pur essendo arrivati in una città a contentarsi di vederla in cartolina io ho proprio rubato qualche giorno di vacanza e devo praticare un turismo velocissimo e poi devo anche pensare alla 1500 no? ormai siamo diventate amiche devo averne cura come si dice chi trova un'amica trova un tesoro e io questo tesoro lo porto ancora una volta alla Fiat prima di affrontare l'ultima tappa del viaggio voi direte che sono pignola ma si tratta di una vettura nuova neonata e poi un controllino piccolo piccolo non è mica pignoleria volete vedere quanto tempo ci vuole? mentre il meccanico svizzero molto cortese molto galante beh in fondo hanno un po' di sangue francese da queste parti alza il cofano e si accinge alle consuete operazioni mi approfitto per fare un controllino estetico a me stessa non avrò bisogno di aggiungere olio ai freni del resto neanche la 1500 ma un po' di cipria si dopo tanti chilometri in fondo anche la 1500 ha la sua borsetta ci tiene l'acqua per gli spruzzatori mentre io nella borsetta ho il pettine lo spettio il rossetto non ho come si chiama quella cosa lì il ventilatore ma del resto non mi serve perché qui fa un freschetto delizioso e poi avete visto? sono passati pochi minuti ed il galante meccanico svizzero mi annuncia che la vettura è pronta all'inizio dell'ultima tappa trovo freddo nebbia ghiaccio sull'asfalto e una salita dura da affrontare nelle peggiori condizioni eppure arrivo in cima al passo Sempione senza accorgermene la 1500 ha superato brillantemente anche la prova salita come dicono i tecnici senza slittare sul fondo sdrucciolevole e consentendomi una buona visibilità anche nella nebbiolina ora giù per la discesa mi sembra che la natura si risveglie che l'Italia sia ormai vicina fuori dalla nebbia dalle nuvole torna l'allegria e la musica accompagnerà il ritmo regolare del motore fino al mio arrivo si prova sempre una strana piacevole emozione tornando nella propria città dopo tanto tempo e anche se questa è via Veneto non crediate che io sia così snob da riservare la mia prima visita alla strada della dolce vita passo per via Veneto per una ragione precisa perché oltre le antiche mura della città a Porta Pinciana mi aspettano i miei compagni di lavoro del mio nuovo lavoro eccoli tutti qui sul palcoscenico dove si prova la nuova rivista c'è Dino Verde l'autore Fiorenzo Fiorentini Franco Latini Gianni Musi insomma tutti gli attori che mi accolgono come se avessi tagliata vittoriosa al traguardo finale del Tour de France sono arrivata puntuale riposata e pronta a cominciare immediatamente le prove e così mentre ora tocca a me lavorare la 1500 si riposa ed ogni dato la guardo con gratitudine perché mi ha fatto trascorrere una breve ma meravigliosa vacanza attraverso l'Europa eccola lì la mia fedele Fiat mi guarda e aspetta e io le dico grazie se tu non fossi un'automobile ti abbraccerei grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti